vediamo ora il kettlebell snatch il movimento parte da una spinta del bacino sostanzialmente portando il kettlebell sotto alle anche spingo in avanti il mio bacino e tiro indietro le spalle in virtù di questa spinta il kettlebell inizierà a salire verso l'alto secondo poi la guida nel braccio verrà portato sopra la testa la spinta si realizza in maniera similare a quello che è un salto quindi caricando sulle gambe spingo il pavimento con i piedi il sedere si farà indietro nella fase di caricamento viene poi spinto in avanti attraverso la completa estensione dell'anca porto le spalle nella direzione opposta il trapezio si attiverà per far salire il braccio verso l'alto quando il kettlebell inizia a raggiungere l'altezza del petto inizio a flettere anche il gomito tirandolo quindi indietro per poi ridistendere il braccio verso l'alto nel momento in cui l'attrezzo ha superato la linea della testa faccio girare la mano in modo che il peso finisca dietro alla mano stessa esattamente in linea con la spalla che lo sostiene assolutamente importante portare appunto il braccio verticale vicino alla testa in modo da mantenere il kettlebell esattamente sopra la linea della spalla la fase di ritorno altrettanto importante sarà controllare la discesa dell'attrezzo mantenendolo sempre il più vicino possibile al corpo per realizzare tutto ciò semplicemente vado a girare la mano in modo che il kettlebell si sposterà avanti oltre la linea del mio corpo le spalle a loro volta torneranno indietro e il kettlebell inizia a scendere piego il gomito per mantenere l'attrezzo il più possibile vicino al corpo vado poi a reinvertire la direzione del corpo stesso nel momento in cui il kettlebell raggiunge la linea del bacino invertire la direzione del corpo significa che le spalle inizieranno a spostarsi in avanti il bacino invece andrà indietro mentre il kettlebell proseguendo la sua discesa semplicemente sotto la guida del braccio verrà riposizionato sotto i glutei stessi spostando indietro il bacino vado ad ammortizzare quindi la discesa attraverso l'attivazione muscolare degli stensori dell'anca e del ginocchio nel momento in cui il bacino raggiunge la fine corsa attraverso lo spostamento indietro del sedere riparto nuovamente con una spinta riparto nuovamente con la side corsa attraverso l'attrivo attraverso l'attrivo quando ha riuscito nel triangolo di cioccio è un attraverso un attraverso l'attrivo